La Rimuntada è un neologismo inserito nei dizionari circa 5 anni fa. Nel linguaggio giornalistico sportivo significa rimonta. Il termine è tutto spagnolo, ma stavolta la Rimuntada è italiana, è giallorossa, è romanista. Un gol di Dzeko all'inizio, il raddoppio di De Rossi e Trissa di Manolas, Roma è questo, è sofferenza, è impazienza, è dolore. Poi però succede che a volte spunti il sole e la gioia è forte, è inimitabile, è pazzesca. La Roma batte il Barça e torna in semifinale di Champions League dopo 34 anni. E se non è pazzia questa, ditecelo vuoi. Ce lo dica la Roma, ce lo dica l'amore, per questi colori, per questa squadra, per questa città. È difficile immaginare Roma venire da un 4-1-defeato, ma non lo sai. Quindi, come è impossibile? C'è un'atmosfera qui qui seduce voi a credere, in una città, in una città, in una città, in una città, non shorte di anciente mytho e legenda, Roma emerge qui, darei considerare un'epoca moderno. L'eo! L'eo atto per Cecho, usa in per Roma e scorsi! L'eo atto è rockissimo e rumpo, è vero! Cecho, Eni Cecho! Musica! L'eo di Rossi. L'eo che è in one! L'eo che è in one! L'eo che è in una città! L'eo che è in uno! E' la città! Rona ha written from their roots the unthinkable unfolds before our eyes how did that just happen Rona made it happen Rona